no al green pass manifestanti scendono in piazza marche nord premiata fra gli ospedali d'eccellenza internazionale agricoltura ecco un bando per agevolare le imprese giovani turismo le marche si mettono in mostra al ttg di rimini buona serata e benvenuti al telegiornale di venerdì 15 ottobre che apriamo con questa prima giornata di green pass obbligatorio che nel centro storico di pesaro è cominciato con 150 200 manifestanti scesi in piazza ad esprimere il loro dissenso sul via questo discusso provvedimento governativo questo primo servizio è di daniele sacchi no green pass libertà questo il coro che si è elevato questa mattina qui da piazzale lazzarini dove si è convogliata la manifestazione no green pass annunciata in questi giorni una manifestazione doveva essere un corteo che dalla palla di pomodoro doveva muovere verso piazza del popolo non è stato autorizzato il corteo è stata autorizzata la manifestazione in piazzale lazzarini e questo è lo scenario che vedete alle nostre spalle questa è la risposta di pesaro alle piazze di tutta italia soprattutto quelle di trieste questa è la nostra risposta sostanzialmente noi siamo semplicemente dei cittadini che lottano per la propria libertà noi non siamo qui per chiedere tamponi gratuiti non siamo qui per fare queste richieste di seconda di seconda istanza noi siamo qui per chiedere l'immediata cancellazione del green pass perché il green pass non è il mezzo per vaccinarsi il green pass è il fine il green pass è il controllo digitale di tutta la popolazione perché con il green pass con un click ti danno un diritto e con un altro click te lo tolgono noi lo respingiamo al mittente tanti gli stressioni esposti ma non solo è stata tappezzata anche piazzale lazzarini la fontana che vedete alle mie spalle di tante copie di articoli che diciamo riportano episodi avversi al vaccino di effetti collaterali spesso dannosi ecco mi volevo soffermare su questa traduzione del regolamento europeo è un regolamento del parlamento europeo che indica come il green pass a livello europeo dovrebbe essere ecco questo è stato fatto il 14 di giugno 2021 ma questo era quello originale questo è quello tradotto mancante una frase molto importante eccolo cioè questo non può essere uno stato credibile un governo credibile che omette la traduzione di un articolo così importante emanato dal parlamento europeo questo non è accettabile quindi contestiamo al governo italiano la mancanza di trasparenza ricordiamo che l'italia è l'unico paese europeo che ha norme così stringenti vediamo che in germania nonostante siano lo 65 per cento di vaccinati non c'è green pass il lavoro è libero non ci sono obblighi per i sanitari per vaccinarsi ed è dunque questa la cassa di risonanza che emersa dal centro storico di pesero da piazzale lazzarini in questa prima giornata di obbligo di green pass nei luoghi di lavoro circa 150 200 persone radunatesi in maniera comunque ordinata e composta senza disordini persone di ogni età che è di ogni anche di ogni categoria lavorativa che hanno comunque lasciato intendere che potrebbe essere soltanto il primo di altre esternazioni di protesta in questa fase faccio un appello a tutti a tutti i lavoratori di resistere 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 assolutamente non cedete a ricatti perché a ricatti non si cede nessuno per nessun motivo e come vi mostrano le immagini di questa mattina nelle farmacie il primo giorno con green pass è stato del tutto simile all'ultimo giorno senza obbligo diverse le file per i tamponi per i cittadini non vaccinati che devono sottoporsi a test ripetuti per la certificazione verde file sì ma disagi contenuti a differenza di quelli che nei prossimi due giorni potrebbero essere più rilevanti nel trasporto pubblico con adriabus che alla luce di diverso personale di guida senza green pass ha ridotto il numero delle corse su linee extra urbane invitando la clientela a consultare ogni aggiornamento sul sito www.adriabus.eu l'abbondante monitoraggio attraverso i tamponi ha denotato oggi anche un lieve rialzo del numero dei contagi nella nostra regione Marche sono infatti 99 quelli rilevati oggi cioè più del doppio rispetto ai 40 di ieri restano invece stabili i ricoveri con 54 pazienti marchigiani indegenza di cui 13 in terapia intensiva purtroppo si è registrato anche un decesso si tratta di una donna di 81 anni di Chiara Valle nonostante sia stata pesantemente toccata dalla pandemia l'azienda ospedaliera Marche Nord nell'ultimo anno ha continuato a portare avanti interventi chirurgici di eccellenza al punto da collezionare diversi riconoscimenti internazionali arrivano prestigiosi e gratificanti riconoscimenti internazionali per l'azienda ospedaliera Marche Nord che grazie alla sua qualificata attività anche in tempo di pandemia è stata premiata da oncoguida per il numero di interventi effettuati nonché inserita tra le eccellenze nella classifica di news week sui migliori ospedali specializzati al mondo si tratta di due traguardi resi ancor più importanti perché circostanziati a un momento storico in cui l'emergenza sanitaria ha reso critico per molti cittadini l'accesso alle cure e li ha spesso costretti ad un allentamento della sorveglianza verso le altre patologie esistenti per far fronte alla drammaticità dei contagi oncoguida rappresenta lo strumento di informazione oggi più esaustivo per i malati oncologici raccogliendo i dati delle migliori strutture sanitarie del paese che trattano le patologie tumorali gli ospedali che hanno indicatori di performance elevati in termini di efficacia efficienza e sicurezza ricevono un bollino verde tanti quelli assegnati a Marche Nord in questo 2021 abbiamo praticamente tante unità operative che hanno avuto il bollino verde e di essere praticamente tra le unità operative con la chirurgia gastroenterologia lo torino le patologie del collo e praticamente della gola e la senologia che ci hanno ci hanno dato un bollino verde come centri di riferimento per il numero di interventi effettuati a Marche Nord nonostante la pandemia e ormai con cadenza settimanale che voi telespettatori di Rossini TV ci segnalate situazioni ad esempio di abbandono di rifiuto in varie zone di Pesaro abbandoni che però non rimangono impuniti un mese fa avevamo realizzato un servizio in merito alle fototrappole che comune e Marche Multiservizi hanno posizionato a rotazione fra le varie isole ecologiche dei quartieri il bilancio di questo mese è di 14 sanzioni per coloro che sono stati appunto immortalati dalle telecamere per un abbandono scorretto di rifiuti in particolare vicino alle isole ecologiche di Villa San Martino tre ponti borgo Santa Maria e Santa Veneranda le multe oscillano dai 25 ai 155 euro per chi ha abbandonato sacchetti di rifiuti o non ha rispettato i luoghi del conferimento della differenziata in importi invece compresi tra i 300 e 3 mila euro per chi ha abbandonato per strada rifiuti ingombranti o pericolosi ed ora cambiamo argomento il PSR il programma di sviluppo rurale delle Marche ha investito ben 30 milioni di euro sugli incentivi alle imprese giovani nel settore agroalimentare un progetto ambizioso che la regione Marche ha presentato ieri sera all'azienda agricola dell'Eiva sul San Bartolo vediamo quindi a tal proposito le interviste di Antonio Astuti entra in campo da protagonista e questo lo slogan del roll up alle mie spalle che rappresenta perfettamente l'evento che siamo venuti a testimoniare ne viene presentato questo bando giovane un'opportunità per il futuro dei giovani che vogliono cimentarsi nel settore agroalimentari 30 milioni messi a disposizione dal PSR della regione Marche 30 milioni destinati ai giovani giovani che sono classificati tale fino a 41 anni. La volontà di questo bando è proprio quello di favorire il ricambio generazionale perché chiaramente il settore agricolo è invecchiato e è risaputo che il giovane è più aperto alle innovazioni e più aperto anche al combattere i cambiamenti climatici quindi ad adottare tecniche meno impattanti tipo l'agricoltura biologica infatti abbiamo fra gli obiettivi del bando è quello di adottare questo tipo di agricoltura e abbiamo visto che l'ottanta per cento delle domande di giovani che che fanno domanda passano a questo tipo di agricoltura e chiaramente questo stimolo alla modifica serve anche a fare un piccolo passo indietro un piccolo al genitore perché in campagna si è abituati a essere attivi fino anche dopo la pensione e quindi lasciare diciamo le redine a un giovane è difficile però è anche importante. L'età l'abbiamo sposata più avanti a 41 in modo che anche chi avesse qualche anno in più ma la voglia la volontà di aprire un'azienda lo possa fare e quindi senza pregiudicare con l'età il rischio di rimanere fuori anche perché sono passati diversi anni dall'ultimo bando quindi magari chi non ha potuto partecipare a quello era opportuno aprirlo e poi comunque nel giro di qualche mese io credo che al massimo 24 mesi ce ne sarà ancora un altro di bando giovani che sarà quello della programmazione 23 27 quindi questa programmazione è fatta di due anni soltanto sarà un bando abbastanza rapido che chiude il 21 di dicembre e che dà la possibilità di fare investimenti di comprare attrezzatura di aprire un'attività agricola con un contributo importante da parte della della regione attraverso i fondi del psr europei quindi è uno stimolo senz'altro abbiamo voluto un po' semplificare abbiamo tolto i preventivi abbiamo tolto il computo metrico abbiamo tolto quello che era un po quello che ci dicevano tanti giovani agricoltori che erano infastiditi dalla burocrazia e proprio su queste agevolazioni dedicate alle imprese giovani in agricoltura rossini dv ha realizzato un approfondimento che vi proporremo la prossima settimana assieme ad un altro focus in tema di turismo ieri infatti le marche sono state protagoniste d'eccezione alla fiera del turismo ttg eventi di rimini e il governatore francesco acquaroli ci offre una valutazione del momento attuale nel comparto della ricettività regionale si conclude oggi venerdì 15 ottobre la tre giorni delle ttg travel experience di rimini la fiera di rilevanza internazionale dedicata alle imprese del turismo in questa edizione 2021 ha ritagliato una vetrina d'eccezione alla regione marche grazie all'evento le marche pronte per una nuova stagione organizzato dall'associazione dei tour operator in coming inside marche live all'evento apparecchiato al grand hotel di rimini presente anche francesco acquaroli che oltre a essere presidente della regione anche la delica dell'assessorato al turismo i dati li presenteremo la prossima settimana ma abbiamo avuto e registrato un'ottima affluenza che ci fa presupporre anche una ripresa che possa riportare la nostra regione ad essere protagonista in una fase come quando era pre covid del 2019 pensiamo a dati similari è chiaro che è una stagione condizionata perché fino a maggio giugno le zone gialle e arancioni avevano condizionato sicuramente le prenotazioni l'affluenza anche la voglia e la possibilità di mettersi in moto verso una meta turistica poi dobbiamo anche registrare nel mese di settembre e anche i primi giorni di ottobre una buona affluenza nelle strutture alberghiere e ricettive questo lavoro che è stato fatto in questo periodo di tempo credo che possa presupporre una buona stagione anche per questo inverno certo è che molto dipenderà dalla pandemia dalla recrudescenza che noi speriamo che non ci sarà e soprattutto dipenderà dalla nostra capacità di saperci organizzare su questo stiamo lavorando e speriamo anche che il flusso che è iniziato nel mese di fine giugno luglio continui anche nelle dimensioni che sono più console nella stagione il periodo adunnale invernale continua il progetto sottopassaggi di arte urbana che attraverso la street art sta colorando i sottopassi di transito di pesaro dopo loreto e via la marca è stato completato anche il sottopassaggio di via canale dipinto da daniele paolini in arte blitz v oggi l'opera è stata visitata dal sindaco matteo ricci e dall'assessore enzo belloni e contestualmente è stato dato il via ai lavori anche al murale che verrà realizzato nel sottopassaggio di via milano domenica alle ore 10 30 alla scuola galileo galilei il leocleb pesaro consegnerà alla lupo baskin una fornitura di materiale sportivo del valore di 300 euro acquistata grazie al service leobron games che proprio il leocleb pesaro organizzò nell'estate 2019 lunedì 18 ottobre alle ore 18 il cinema astra di pesaro ospiterà l'evento sussidiarietà per la ripresa in occasione della presentazione del volume una società di persone i corpi intermedi nella democrazia di oggi e domani volume curato da franco bassanini tiziano treo treu e giorgio vittadini il dibattito moderato da angela tringali e organizzato da fondazione astrid e fondazione per la sussidiarietà vedrà la presenza di come relatori anche di marco montagna lorenza violini andrea boccanera cinzia fenici andrea mancini mauro pappalini gian luigi storti e lucio zanca altro libro ma di tutt'altro genere è la raccolta di poesie dialettali realizzata da emilio melchiorri che andiamo a conoscere nelle interviste realizzate da antonio ascuti mi fa molto piacere questa breve intervista perché è l'occasione per me di rappresentare il mio dialetto attraverso le mie poesie dialettali che ho iniziato senza conoscere la metrica poetica poi un bel giorno ho avuto la possibilità la fortuna di incontrare il professor marcello martinelli che mi ha edotto e mi ha portato a questo livello per cui la mia il mio la mia opera rappresenta circa 63 64 poesie dialettali che ecco intitolate una vita da cruchel e il cruchel per chi non lo sa è il gabbiano e come vi posso dire diciamo nell'alto il medio adriatico e il gabbiano nel gergo marinaresco si chiama cruchel al plurale cruchei un libro dedicato quindi al nostro dialetto alla lingua pesarese che tanto ci sta a cara l'attività della sua associazione la società opera di mutuo soccorso ha ripreso da poco con una serie di appuntamenti davvero interessanti si possiamo dire che ovviamente la società una società gloriosa che è nata il 1862 però naturalmente non ha più le finalità di allora altre finalità quelle della solidarietà quella dell'occupazione del tempo libero per i soci alle sue spalle c'è un illustre passato della società opera di mutuo soccorso il nostro caro e gioachino rossini che è stato il primo presidente onorario e quei de perpetuo veramente è un onore avere questa illustre figura e come potete vedere alle nostre spalle c'è una sua lettera autentica con la quale lui ringrazia l'allora presidente del presidente di quei tempi per l'onorificenza ricevuta e come sempre potete anche voi segnalarci il libro che avete scritto o l'evento che volete organizzare chiamateci al numero di redazione 370 366 72 10 il nostro consueto numero oppure contattateci attraverso il sito internet per raccontarci magari del vostro libro del vostro evento quindi non solo segnalazione di disfunzioni ma segnalazioni anche di cose belle che fanno i cittadini della nostra provincia di pesaro urbino chiudiamo il nostro telegiornale chiaramente parlando di sport con un weekend ricco di appuntamenti che comincerà proprio da domani alle ore 14 quando al benelli scenderà in campo la vispesaro con il cesena partita stuzzicante non solo per il buon momento dei due contendenti ma anche perché sarà la prima gara pesaro con l'affluenza di pubblico allargata al 75 per cento della capienza dello stadio sempre domani alle 15 prima casalinga al palanino pizza anche per little service a campanara arriva la metà catania nel remake della finale scudetto dello scorso giugno prima storica partita casalinga in serie a 1 anche per la megabox valle foglia che domenica le 17 giocherà al pala carnerolli di urbino con busto arsizio alla vitrifriguarena la carpegna prosciutto basket pesaro domenica alle 16 30 contro tortona proverà a rifarsi del brutto k.o. rimediato a bologna con la fortitudo in trasferta a civita vecchia domenica alle 15 30 ci sarà il ritorno in campo della pesaro rugby dopo 18 mesi di stop imposto dalle restrizioni da pandemia insomma un weekend dedicato allo sport weekend che anche noi chiaramente seguiamo da vicino intanto però andiamo a vedere quella che la programmazione di questa sera su rossini tv e anche per i prossimi giorni questa sera infatti alle 21 20 vi mostreremo un interessante convegno che è stato organizzato da 50 e più l'associazione di conf commercio insieme a terziario donna e benessere in menopausa più vita agli anni il benessere dell'uomo in andropausa un percorso da condividere all'interno della coppia veramente un momento di informazione molto molto interessante e poi domani mattina ci sarà la rassegna stampa alle 7 20 in diretta sul canale 633 chiaramente ma anche sulla nostra pagina facebook con antonio astuti e domenica 17 ottobre alle ore 18 in diretta su rossini tv potrete vedere la messa di apertura del cammino sinodale messa che si terrà all'interno appunto del duomo di pesaro e vi ricordiamo anzi vi informiamo che lunedì parte un nuovo programma in collaborazione con fisioradi check up obiettivo salute tutti lunedì infatti avrete qui ci sarà questo spazio medico di informazione molto importante e lo troverete tutti lunedì alle 21 20 e poi a seguire tutte le repliche fino alla settimana dopo quindi check up obiettivo salute e allora grazie per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon fine settimana